Riprendiamo la nostra diretta dunque stamattina come anticipava Paola vogliamo parlare di un argomento di strettissima attualità che ci riguarda davvero molto molto da vicino perché abbiamo in collegamento con noi il professor Sergio Locaputo, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Foggia per parlare di influenza ma anche ovviamente di Covid. Dunque con il professore vogliamo approfondire questi argomenti che come dicevo sono davvero di strettissima attualità. Buongiorno professore, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno poi. Buongiorno, allora partiamo con un dato di qualche giorno fa, un più 30% al pronto soccorso per l'influenza. Sbagliamo a dire che quella di quest'anno è un'influenza molto infettiva? A dire il vero non è molto diversa. Il problema è che poca gente ha fatto la vaccinazione antinfluenzale e quindi c'è stato un elevato numero di casi. Logicamente se ci sono meno persone vaccinate più persone sono esposte e quindi il virus circola molto di più. Anche perché come sappiamo è sempre un mix di virus influenzali che circola. Quindi quest'anno abbiamo avuto questo tipo di problematica. Una problematica che davvero ci coinvolge in maniera diretta anche perché come lei giustamente ha detto professore c'è un mix di virus influenzali in mezzo a noi e tra questi c'è anche il covid, SARS-CoV-2 che comunque continua ad essere presente tra di noi. Ecco quello che le vorrei chiedere, si può e si deve ancora fare una distinzione tra i due virus, tra il virus influenzale e il virus covid? Sì, assolutamente sì perché comunque il covid resta una malattia più severa rispetto alla patologia influenzale. Questo soprattutto per le persone fragili. Quello che è importante sottolineare è che assolutamente non siamo più in fase pandemica però praticamente la tutela delle persone fragili che purtroppo continuano ad avere complicanze a essere ricoverate e anche osserviamo alcuni decessi restano le persone da tutelare. Da tutelare con i richiami vaccinali sia per il covid che per quanto riguarda l'influenza e poi anche con una particolare attenzione perché se viene diagnosticato tempestivamente noi con anticorpi monoclonali e antivirali riusciamo a evitare che la malattia possa progredire. Quindi una particolare attenzione alle persone fragili, alle persone con tumori ematologici, alle persone che fanno chemioterapia o immunoterapia. Quindi sicuramente queste persone sono da attenzionare con particolare riguardo sia dai medici di medicina generale che anche da chi li assiste. Ecco professore a volte si parla di è solo una banale influenza ma sbagliamo a dire che l'influenza è banale perché a volte può diventare anche molto severa. Quali sono i sintomi più comuni? Magari anche quelli da non sottovalutare? La sintomatologia è quella classica che varia poi da soggetto a soggetto però con febbre, mal di gola, tosse e anche la durata praticamente varia da caso a caso. Come dicevo il problema dell'influenza e le complicanze dell'influenza si verificano nei soggetti che sono più fragili. Logicamente più soggetti contemporaneamente prendono l'influenza è più facile vedere l'intasamento al pronto soccorso e vedere forme gravi come quelle che abbiamo visto in alcuni casi che necessitano di ricovero e soprattutto in alcuni casi necessitano di una particolare assistenza perché la polmonite interstiziale da influenza è molto simile a quella del covid. È davvero importante dunque. Professore noi abbiamo all'ascolto tante nonne che magari sono babysitter nel senso che comunque hanno i bambini dei propri figli e dunque in qualche maniera poi ricevono a casa i virus che poi dall'asilo o comunque da scuola vengono portati. Da questo punto di vista quali possono essere le precauzioni da adottare? Dobbiamo fidarci sempre della ormai indimenticabile mascherina oppure ci sono rimedi un po' meno invasivi potremmo dire così? La mascherina e il lavaggio delle mani che purtroppo è stato dimenticato un po' da tutti ma il lavaggio delle mani è fondamentale perché oltre il 40% delle infezioni virali di una persona accade perché la persona si porta le dita, le mani agli occhi e alla bocca. Quindi sicuramente mascherina e lavaggio delle mani possono essere utili soprattutto quando siamo in presenza di persone fragili. La vera prevenzione è fatta con la vaccinazione purtroppo ora siamo già a metà gennaio tra un po' il picco lo stiamo avendo in questi giorni probabilmente già da fine gennaio diminuirà questa pressione sia sull'influenza e sul covid che è già parzialmente diminuita però la vera prevenzione è quella della vaccinazione e questo purtroppo dovrebbe servirci di lezione per il prossimo anno, il prossimo autunno, inverno. Quindi il picco è già arrivato, il vaccino resta l'arma più potente. Professore tornando alla prima domanda, il dato sul pronto soccorso. Quando dobbiamo realmente andare a recarci in un pronto soccorso? Al pronto soccorso bisogna recarsi quando realmente c'è una emergenza, come dice la parola stessa pronto soccorso. Purtroppo c'è questa abitudine, cioè la popolazione praticamente spesso non riesce a trovare un sanitario disponibile e allora anche per problemi o per pratiche che normalmente possono essere affrontate con delle visite ambulatoriali specialistiche non vengono fatte e si preferisce andare al pronto soccorso con l'idea. Così tanto mi fanno subito tutto quanto e questo però comporta un intasamento, comporta il fatto che le persone che hanno veramente bisogno vengono magari seguite più tardi, con più difficoltà e quindi si crea soltanto un disservizio dal punto di vista sanitario. Il messaggio è forte e chiaro dunque, non intasiamo il pronto soccorso per una banale che poi banale non è ovviamente come abbiamo avuto modo di capire influenza ma affidiamoci ai medici di medicina generale che sono un presidio importante di tutti i territori in sostanza. Allora professore noi la ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi sperando di aver fatto un servizio utile per tutte le persone che ci stanno seguendo e che si fanno tante domande su questa influenza che quest'anno è un po' particolare. Grazie, grazie di cuore. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci.